Il tir alla fune, le biglie, il biliardino, insomma i giochi dei tempi che furono sulla collina di Castelsecco. È così tornata per la seconda edizione la manifestazione I giochi dei nonni, recuperata sabato 24 giugno dopo che nelle scorse settimane era stata annullata a causa pioggia. C'è stata anche una discreta partecipazione nonostante il periodo. Purtroppo abbiamo dovuto rinviare dalla data del 10 che sarebbe stata sicuramente molto più partecipata, però veramente come si è potuto vedere è stata gradevolissima e siamo stati veramente bene. Un'iniziativa sulla collina che domina la città per il Calcit ma anche per valorizzare il sito archeologico. Castelsecco vuole essere un luogo di incontro non soltanto fisico ma anche dal punto di vista culturale. L'associazione tende a fare rete, a coinvolgere come abbiamo fatto stasera dal Calcit all'Acli, all'Uisp, agli scout del Cengei. Noi tendiamo qui ad accogliere tutti e a fare delle cose che possano essere aperte a tutti.